Crotone, sabato 26 maggio 2012, auditorium dell'Istituto Pertini, l'inizio nazionale per l'inizio del premio Bucciarelli d'Afflitto. Una bellissima iniziativa che è avanti da molti anni e che vede premiati i più bravi ragazzi della provincia di Crotone, di tutte le scuole della provincia di Crotone. Dopo l'inno italiano, successivi inni europeo e del Rotary, questo dovrebbe essere l'inno europeo. Grazie a tutti. E allora l'inno del Rotary. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 gli alunni, i ragazzi che verranno premiati e anche le loro famiglie. Anche quest'anno il proprio rifletto di Protone si preggia l'onore di consegnare per la quarantesesima lotta il premio cucciarebbe d'affitto agli studenti della provincia di Protone. Prima il presidente del Rotary Club di Protone sta progettando i saluti dell'associazione. Come ha detto siamo alla quarantesesima edizione. Io volevo fare due brevi considerazioni sulla scuola. La scuola è un valuardo della democrazia e della comunità civile. Noi siamo stati studenti prima, siamo appensionati alla scuola. La scuola dove si accorge e si costruiscono le nuove generazioni. Si costruisce l'uomo, si costruisce il cittadino.